Festa di Gesù Nazareno nella parrocchia di Sant'Erico 25 settembre 2016 è il momento e l'ora della messa pomeridiana che precede la processione di Gesù Nazareno. Un meteo incerto per tutta la giornata. Le decisioni della processione si rimandano a dopo la celebrazione della messa. Intanto i parrocchiani hanno preso posto qui in parrocchia per partecipare alla messa pomeridiana. La messa pomeridiana è la 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 messa pomeridiana. Siamo tutti voi. Buon annoio. Celebriamo l'ultima messa di questo giorno di festa in onore di Gesù Nazareno. La messa pomeridiana è la festa conclusiva alla quale segue il termo permettento di obbiacente la processione. Vediamo poi alla fine della messa come sarà il termo. e quindi dovremmo rinunciare come è successo anche allo scorso. Lo chiamo la messa del sindaco, del sindaco, del sindaco di Mussolini. Ho voluto essere presente insieme anche con l'assessore di questa comunità parlaggiata in festa. Buon annoio. Proia in tezza e 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 in tezza. Bebe vorutati, bebe vorutati. Preghiamo Padre che hai voluto salvare gli uomini con la croce del Cristo tuo figlio concedi a noi che abbiamo conosciuto in tempo il suo mistero di amore di colere in cielo i furti della sua redenzione per il nostro Signore Gesù Cristo tuo figlio che è Dio e vivere in bianco in te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i segni dei segni Amore Preghiamo Padre che hai voluto salvare gli uomini con la croce del Cristo tuo figlio di amore di colore in unpackazione Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.